Mailboxis a Cava dei Tirreli, unica sede in via Vittorio Veneto 19. Soddisfa tutte le tue esigenze. Dopo settimane di polemiche e di acceso scontro tra maggioranza e opposizione, si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio Comunale monotematico, richiesto dalla minoranza già d'inizio novembre, per fare il punto della situazione sul futuro dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo. Come ampiamente prevedibile, è stata una seduta consigliare infuocata sin dalle prime battute. Il Consiglio si è aperto con l'informativa del sindaco Servalli sull'emergenza Covid-19 nella città metelliana. L'opposizione, invece, ha posto all'attenzione dell'amministrazione una serie di criticità che si sono registrate sia nella prima fase che nella seconda ondata, a cominciare dai problemi di natura logistica dell'USCA. La seduta è poi entrata nel vivo con la discussione dell'ordine del giorno relativo alle iniziative a tutela della piena continuità operativa del presidio ospedaliero Cavese, in seguito alla temporanea chiusura della reanimazione e dell'accorpamento delle parti di chirurgia e ortopedia. Ad aprire il dibattito, l'intervento del sindaco Servalli. L'ospedale non è chiuso. Anzi, è accaduto che a un certo punto si è profilata un'ipotesi. L'ipotesi che l'ospedale di Cava dei Tirreni diventasse un ospedale interamente dedicato al Covid-19. Ci troviamo nella prima fase, quando ci si cominciava ad organizzare su come affrontare la pandemia. A un certo punto il Covid cresce nella sua intensità. L'ospedale di Cava intanto faceva questo tipo di attività, trattamento e collocamento del paziente nell'ospedale dedicato. C'è stata l'esigenza da parte dell'azienda ospedaliera di rafforzare il Daprocida e rafforzare gli altri ospedali dell'azienda con del personale di rianimazione. Con un provvedimento che è arrivato in direzione del nostro presidio, sottolineando il carattere della temporaneità di questo provvedimento. Guai se così non fosse. Ma io credo che la discussione più importante che il Consiglio Comunale debba fare, una volta che ci siamo assicurati che tutto quello che è stato mosso adesso, rianimazione, ortopedia, chirurgia, ritorni nella configurazione iniziale, è una discussione, questa sì che ci riguarda tutti, perché è legata al futuro, su quale destino, su che cosa si pensa che il nostro ospedale debba essere all'interno dell'azienda, che ruolo può esercitare nell'evoluzione, diciamo così, nella dinamica dell'azienda universitaria. Preoccupazione per il futuro del nostro come ocavese invece è stata espressa dai consiglieri di opposizione, che però hanno aperto al dialogo con la maggioranza. Allora, abbiamo aperto, possiamo dire, i cancelli per diventare una sola grande famiglia, dove maggioranza e minoranza possono lavorare insieme per salvare questa grande realtà che è l'ospedale, iniziando dal pronto soccorso poi ai vari reparti dove si può arrivare. Certamente ci sono tante le difficoltà, ma ora abbiamo il desiderio di camminare insieme, ci vogliamo dare anche delle scadenze e ci rivedremo ancora puntualmente con un altro consiglio comunale monotematico, dove vedremo la situazione, come sta, cosa si è fatta e cosa si deve fare. Parla invece di delitto perfetto il consigliere Raffaele Giordano. Sì, delitto perfetto perché noi abbiamo un atto aziendale che prevede una serie di servizi, un numero di posti letto, quest'atto aziendale è stato sbandierato più volte ai cittadini cavesi, però poi in realtà il cittadino cavese quando va in ospedale trova cose completamente differenti o almeno molto parzialmente differenti. Quindi abbiamo fatto notare alla maggioranza e a questa amministrazione come l'andamento degli ultimi cinque anni si è andato incontro a uno spopolamento dell'ospedale e se vogliamo effettivamente programmare il futuro dobbiamo partire da questa certezza, che in questi cinque anni il nostro ospedale è stato altamente ridimensionato e bisogna innanzitutto dargli una mission, cioè dargli uno scopo, far sì che i servizi ritornino in maniera tale che gli stessi cittadini cavesi ritornino a credere nel proprio ospedale, ritornino a fruirne e a dare quei numeri essenziali per la sussistenza. Alla fine, dopo un accesso confronto anche tra gli stessi esponenti della maggioranza, l'amministrazione ha presentato un ordine del giorno con il quale si chiede alla giunta regionale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per ridare la piena funzionalità al Santa Maria dell'Ulmo, di far tornare tutto il personale attualmente dislocato altrove per far fronte all'emergenza Covid, di potenziare le unità operativi già presenti al nosocono cavese e di rafforzare la sanità territoriale. Insieme alle proposte presentate dal PSI, la discussione proseguirà nell'apposita commissione consigliare.